abbiamo una gamma di plus liquidi molto completa che può soddisfare qualsiasi esigenza per ogni pescatore e per ogni tipologia di pesca i plus liquidi possono essere usati in più modi possono trovare vari campi di applicazione possono essere usati nel self made quindi utilizzati come parte liquida poi da aggiungere al mix secco oppure possiamo usare i plus liquidi per rafforzare le boiless prima di una sessione almeno 24 ore prima bagnando le stesse per dare così gusto e attrazione alle boiless sia di innesco che da pastura